Nuova puntata di Gentleman Driver TV in onda da venerdì 24 febbraio alle ore 22.55 Auto e moto d'epoca 2023 a Bologna verso il futuro Cristiano Luzzago a bordo di Alpine Renault GTA V6 Turbo FMAE il club milanese verso il rinnovamento Ruote da sogno a Retromobile con una scelta di stile Coppa della Perugina tra tradizione e novità Circuito del Bordino edizione numero 31 visita le Langhe Giro di Sicilia dal 1911 ai nostri giorni l'epopea di Vincenzo Florio Ricordate Gentleman Driver TV è visibile in tutta Italia sui canali Sky Sport 229 Sul digitale terrestre canale 402, TVSAT 55 e tutte le piattaforme web di Adrenaline 24H